buongiorno a tutti e benvenuti a questa video analisi settimanale cominciamo dal cambio euro dollaro come diciamo nostra abitudine giusto per vedere che lo stesso sta attraversando un periodo e una fase abbastanza interessante allora questo è il livello e questa in generale è la lateralizzazione alla quale in qualche modo ci aveva abituato sia sulla salita che poi nella discesa la rottura di nuovo rialzo con pullback rilancia la possibilità che si possa rivedere a breve il prezzo di 1.10 quanto meno che si resti all'interno di questo range saprà diciamo il cambio lo dollaro muoversi verso l'alto di nuovo beh questo dipenderà anche da quello che succederà il dollar index che come vedete si muove anch'esso tra quell'area dei 103 3 per capirci questo livello qui da sempre famoso spartiacque dei vent'anni e questo minimo qua sotto cioè questo range di prezzo che è quello che sembra attualmente contenere ogni velleità passiamo quindi a vedere che cosa è successo nell'ultima settimana sull'obbligazionario americano dove diciamo così intanto come dire la caratteristica è stata quella di una discesa della volatilità questa è la volatilità presente sul obbligazionario americano allora andiamo prima di tutto a vedere che cosa è successo al rendimento rendimento che rimbalza ma si mantiene molto prossimo a questa soglia compresa tra 3 40 e tutta un'area di prezzo diciamo tra 3 40 e 3 30 che a mio avviso è spartiacque ogni futuro scenario di mercato diverso da quello attuale dipenderà da una discesa del rendimento americano sotto il 3 30 per cento diciamo come sapete mi piace tagliare con l'accetta e non certo di cesello quindi sotto il 3 40 3 30 anzi sotto il 3 30 di rendimento noi avremo uno scenario che andrà cambiando vorrà dire che si va verso le obbligazioni quindi probabilmente si andrà ancora verso l'oro e tipicamente questo scenario comporterebbe chissà forse un po di fuoriuscita anche dall'azionario ma è solo in divenire poi noi abbiamo un'attualità un presente invece fatto di un aspetto ben diverso che andremo a delineare quando parleremo di titoli e di indici diciamo di listini azionari allora questo è il rendimento del obbligazione europeo quindi il rendimento del dax del bund tedesco scusate e quello del btp italiano lo vedete sono tutti allora il btp italiano intanto ha un rendimento fatto di fatto di minimi crescenti questo è un dato di fatto quindi vuol dire che tutto sommato c'è abbastanza c'è abbastanza fiducia diciamo così verso il btp italiano ma anche il bund tedesco come vedete si muove con una serie di minimi abbastanza crescenti anche se qui abbiamo avuto una coda a ribasso sotto il 2 per cento come dire piuttosto improvvisa andiamo a guardare anche l'altra faccia della medaglia questo è il decennale americano visto però dal punto di vista dell'obbligazione non del rendimento e come vedete un rendimento sotto il 330 significherebbe il breakout dell'obbligazione all'americano il che vorrebbe dire un forte ritorno di interessi esattamente come abbiamo detto prima ricordiamoci però questi fatti perché sono importanti passiamo ora le commodities il petrolio rientra a pieno come dire a pieno titolo nel range precedente quindi tornerà a muoversi probabilmente in questo contesto fatto di 10 dollari tra 72 e 82 dollari barile se dovesse andare sotto valgono diciamo i supporti fin qui delineati li vediamo bene qua e quindi stiamo a vedere che cosa può succedere l'oro che ha tentato per l'ennesima volta di andare sopra i 2000 dollari e di rimanerci rimane però proprio lì in quell'area quindi sta consolidando la sua situazione per cui è come un'abitudine no che abbiamo visto già più volte dell'oro che tende a consolidare poi prende una direzione ovviamente non sempre la direzione verso l'alto può essere anche che la prenda verso l'alto e poi torni verso il basso può essere che con gestione poi si muodino su insomma stiamo a vedere ma siamo come dire nell'alternanza tra letargo qui e scienza diciamo e poi fase espansiva adesso siamo in una fase di letargo in attesa di vedere anche se qualche segnale che si stia risvegliando un po c'è l'argento è rientrato a pieno titolo anch'esso nel range precedente che estendiamo a questo punto e quindi attenzione a rialzo all'area dei 24 e mezzo 24 70 che potrebbe fungere da resistenza andiamo anche a vedere che cosa succede sul rame che come dire a mio parere rappresenta anche la possibilità di un interessante futuro trade è inserito in un trend diciamo è inserito in un canale in un trend rialzista che vediamo bene svilupparsi in questa maniera ok questo è il canale poi a breve termine una tendenza di bassista ma siamo proprio lì al limite e non è casuale se proprio intorno a quei livelli sta andando a fare di brevissimo periodo una concessione del prezzo in attesa di capire se la sua direzione sarà piuttosto questa o piuttosto quella più in alto stiamo a vedere anche qua interessante entriamo ora nello scenario dei come dire dei titoli azionari dei listini azionari per vedere prima di tutto in partenza come il nasdaq si stia mantenendo forte sia rispetto all s&p sia rispetto al dow jones sia soprattutto rispetto al russell che vediamo qui e allora partendo dagli indici americani e partendo dal dow jones vediamo che il dow jones è rientrato nel rettangolo nel box dove era rimasto per oltre quattro mesi c'era scivolato sotto ma ora a pieno titolo è di nuovo dentro siamo sulla prima resistenza utile vediamo se saprà rivolgersi verso la parte alta il russell riesce finalmente in chiusura di ottava come si diceva una volta a superare i mille otto quindi a superare la congestione verso l'altro vediamo bene qua è molto importante questo scenario diciamo così e poi sempre andando verso l'alto abbiamo il nasdaq bellissimo che fa breakout e qui c'è poco da dire no è un breakout in pieno stile e il target resta quello che si vede la sopra lo si vede bene ma breakout lo fa anche l'S&P l'S&P 500 a cui ora restano due target diciamo di quelli visti anche già nel 2022 che sono l'area dei 4.170 4.180 lo vediamo qua e poi eventualmente i 4.300 la sopra quindi scenario interessante listini europei andiamo a vedere allora l'euro stock che torna a penutitolo diciamo così anche lui a puntare dritto al target del precedente massimo relativo poco sopra i 4.300 punti anche se anche qui conviene poi riflettere circa l'ipotesi che poco sopra c'è un massimo ben più significativo che quello di periodo registrato lo scorso anno quindi attenzione e poi abbiamo anche diciamo uno scenario simile anche se è più debole sull'euro store 600 che ha lasciato si è messo alle spalle una resistenza significativa siamo su livelli di resistenze un po' superiori e poi via via andremo ad affrontare quelle di sopra molto molto interessante invece il DAX lo vediamo perché fa breakout di una resistenza che era durata diciamo un bel po' oltre un mese lo vediamo molto bene qui eccolo qui breakout di questa resistenza e target dritto dritto ai massimi storici superiori ai 16.000 punti allora questo tutto questo scenario ci porta anche ad analizzare a breve termine quello che sono diciamo così l'indice italiano e i titoli che ci danno qualche opportunità di vedere delle situazioni interessanti intanto diciamo che noi continuiamo a mantenere l'area dei 27.000 poi quella dei 28.000 come i due livelli successivi la resistenza più importante oramai abbiamo rotto questa resistenza intermedia e quindi 27.000 sembrerebbero come minimo la portata ma ovviamente nulla va dato per scontato né anticipato quindi restiamo vigili in attesa di capire quello che può capitare allora cominciamo ad analizzare quelli che sono alcuni interessanti grafici del listino italiano che possono darci degli spunti favorevoli allora quello che vediamo qui è amplifon davvero bel titolo si è mosso molto bene questo target a rialzo rimane da superare una soglia tosta stiamo a vedere che cosa succederà e se ci vorremmo arrivare ma ci sono tutta una serie di titoli tra cui parecchi titoli tra le utilities che sono quelle che hanno un po' preso il posto nei bancari guardate come si è mossa bene a 2a dopo avere fatto la rottura di questo testa spalle rialzista ha congestionato diciamo così fatto pullback e ora è andata anche a rompere diciamo la resistenza ancora movimento a rialzo quindi bellissimo il grafico di a 2a ma che dire anche il grafico di campari che dopo essere rimasto praticamente per un anno imbrigliato in un trading range alla fine è andato a rompere a rialzo tutto questo ampio rettangolo di lateralizzazione davvero molto interessante il grafico di campari ma rimanendo anche nel campo dei titoli diciamo così dei titoli energetici ecco enel che fa un breakout di breve periodo e dove è facile anche individuare diciamo il livello successivo di resistenza molto interessante per certi versi anche se il grafico meno bello comunque anche eni da un segnale di recupero a breve termine lo vedete anche se subito si presenta un'area di resistenza tutta quella che va tra i 13 e 15 i 13 e 50 è un'area di forte resistenza per il titolo forse il più bello dei titoli che ha dato spunto rialzista molto interessante è stato erg lo vediamo qua che da uno spunto rialzista diciamo così superando d'un sol botto questo livello e si staglia subito qui la resistenza successiva andremo a vedere che cosa vorrà succedere altro titolo che offre degli spunti interessanti ai ferrari perché ferrari sta pressando lo vedete su questa resistenza dei 249 80 io direi 250 sta pressando questa resistenza questa è la 250 che poi potrebbe liberare il titolo verso l'alto restiamo a vedere ci sono altri titoli ovviamente che rimangono interessantissimi inuit non ci sono più parole per definire la rincorsa guardate che volumi e che movimento su questo titolo che continua a essere interessante rimanendo sempre diciamo nel compatto delle utility italgas veramente vicino a una resistenza qui insomma possiamo vedere qualcosa di estremamente interessante una resistenza molto interessante che si delinea sul titolo e che potrebbe essere rotta e per rimanere in tema ne avevamo parlato qualche giorno fa ecco terna che ha già rotto la prima resistenza e tra poco si troverà alle prese con la seconda area ma nel frattempo ci sono altri titoli italiani guardate quanti titoli danno bei segnali sul mercato italiano è come un clare che si muove a rialzo fa un nuovo massimo relativo insomma interessante e poi possiamo vedere anche snam altra utility anch'essa le prese a breve con un'area di resistenza davvero interessante che per estensione può arrivare anche a questo livello e si come dire proietterebbe poi verso un target ulteriormente rialzista come dimenticare prismian che è un titolo che è andato recuperando è uno dei migliori titoli del listino diciamo così si è andato a poggiare sulla trend line del canale diciamo rialzista la trend line rialzista bellissimo il canale rialzista che si vede qua insomma con le sue mediane tutto è tutto ben allineato lo vediamo in maniera chiara e diciamo così questo è un titolo che ha degli aspetti estremamente estremamente interessanti stiamo a vedere per ultimo segnalo stm titolo che ha fatto un movimento in linea un po' con il resto di congestione consolidamento di un prezzo da manuale e breakout rialzista molto molto bello lo vedete qui questo è il breakout rialzista che abbiamo visto ma attenzione perché ci sono anche alcuni titoli americani e che titoli che danno luogo a breakout interessanti comincerei da apple che continua che continua la sua fase di forte di forte crescita che adesso andremo a vedere col superamento dell'area dei 157 dollari per azione ha dato luogo a un bel breakout a un bel movimento rialzista assolutamente non banale vediamo qua molto molto interessante ma subito dopo ci sono altri titoli americani degni di nota per esempio partirei da microsoft sono tutte mega cap che hanno trovato un buonissimo momento di un bellissimo momento di mercato guardate microsoft di nuovo bel breakout siamo già in prossimità quasi della resistenza successiva ma il movimento grafico è stato bello più breakout di seguito tutti con le stesse linearità e tutti con le stesse caratteristiche avete visto come si è mosso bene il titolo a rialzo altri titoli tra questi molto importanti che hanno grafici con buon potenziale comincerei da amazon che come vedete sta recuperando ed è alle prese con un livello di prezzo importante ha già fatto uno strappo fin qui sopra questo è un livello e questa è una candela che vorrà essere rispettata perché qui sono usciti diciamo dei dati il titolo è salito poi è sceso rapidamente quindi attenzione perché quello è un livello di grosso incastro dove il titolo potrebbe comunque anche trovare resistenza chi continua nel suo recupero pieno è meta che come vedete macina resistenze su resistenze e adesso diciamo così si rivolge a livelli abbastanza inattesi anche solo pochi mesi fa ricordiamo che poi qui c'è un enorme gap da chiudere sul titolo quindi attenzione poi in seguito a quello che può succedere altri titoli che continuano nella loro corsa il mio personale protagonista diciamo così e ho eletto tale titolo protagonista di tutta questa fase di rialzo che è nvidia che si avvicina a un target molto significativo quindi da questo punto di vista un po di attenzione ma ce ne sono altri che invece sono in rampa di lancio ecco allora ecco allora Cisco System eccolo qui che come vedremo fa un breakout anche lui di un'area di prezzo e di una resistenza significativa quindi titolo che anch'esso si proietta verso livelli interessanti poi abbiamo altri titoli per ultimo vi terrò il mio favorito perché sicuramente è tra quelli che mi piacciono di più adesso abbiamo Striker lo vedete qui guardate il breakout di Striker su che livello di prezzo viene fatto quindi un breakout davvero interessante che coinvolge un massimo che nel 2022 e poi fin qui del 2023 non era mai stato violato andiamo a guardare un altro titolo importante che è quello che noi conosciamo bene del mercato CME il Chicago Mercantile Exchange fa un breakout di periodo e va subito diciamo a ragionare su livelli successivi e tutta quest'area di prezzo vedremo dove andrà a muoversi ma adesso vi faccio vedere forse quello che per me è stato il più bel titolo della sessione di venerdì eccolo qui il breakout del titolo Oracle lo vediamo bene qua graficamente breakout di un'area che non si vedeva da tempo diciamo così se escludiamo questo spike quasi fuori contesto quasi fuori grafico bel movimento grafico supportato anche da volumi di un certo interesse vedremo come si comporterà il titolo nelle prossime sessioni allora abbiamo tanti titoli che confermano che il mercato a breve termine potrebbe anche stare in un buon momento certo tutto può essere come posso dire in qualsiasi momento invalidato ma un buon trader è sufficientemente camaleonte per sapersi eventualmente adeguare al momento opportuno per questa settimana è tutto alla prossima ciao